Benvenuti alla celebrazione della vita e delle parole di Jim Rohn, l'ispiratore di milioni di persone in tutto il mondo. Con la sua saggezza e la sua esperienza ci ha offerto una prospettiva unica sulla vita, sulla crescita personale e sul successo. Ecco 20 citazioni che ci ricordano l'incredibile saggezza di Jim Rohn. Se vuoi vivere una vita felice, attacca la tua carrozza alla stella del successo. Il vero valore della vita sta nella sua capacità di migliorare la vita degli altri. Non cercare di diventare una persona di successo, cerca di diventare una persona di valore. La disciplina è il ponte tra i tuoi obiettivi e il tuo successo. L'unico modo per fare un grande lavoro è amare quello che fai. Non aspettare le circostanze, creale tu stesso. La vita è un'opportunità straordinaria, sì certo, di sfruttarla al massimo. La felicità non è qualcosa che si ottiene dal mondo esterno, ma qualcosa che viene da dentro di te. Le cose migliori della vita sono le persone che ami, i posti che hai visto e le memorie che hai fatto lungo la strada. Non guardare le cose come sono, ma come potrebbero essere. Se vuoi avere di più, devi diventare più. Per ottenere di più, devi diventare di più. Fai le cose necessarie per ottenere ciò che vuoi nella vita, piuttosto che fare ciò che vuoi. Per ottenere risultati straordinari è necessario fare cose straordinarie. La tua attenzione ai dettagli è il tuo biglietto da visita per il successo. Non permettere alle tue emozioni di guidare la tua vita. Lascia che sia la tua ragione a farlo. Il successo non è la chiave della felicità. La felicità è la chiave del successo. I tuoi obiettivi devono essere più grandi della tua paura. Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei loro sogni. Se vuoi cambiare la tua vita, devi cambiare te stesso. Se vuoi cambiare il mondo, devi cambiare gli altri. La tua vita cambia quando tu cambi. Jim Rohn ci ha insegnato che il successo non è solo una questione di fortuna o talento, ma di perseveranza, disciplina e impegno costante. Le sue parole risuonano ancora oggi come un faro di speranza per coloro che cercano di raggiungere i loro obiettivi e di realizzare il loro pieno potenziale. La sua saggezza continua ad ispirarci a lottare per un futuro migliore per noi stessi e per gli altri. Che le sue parole ci accompagnino in questo viaggio e ci aiutino a realizzare il nostro pieno potenziale. Grazie per aver condiviso questo momento con noi. Continuate a seguire il nostro canale per altre ispirazioni e storie di personaggi straordinari che hanno lasciato un segno indelebile nella storia dell'umanità.